ciao ragazzi sono simon88 e bentornati sul canale ci siamo finalmente ci siamo dopo un po di tempo abbiamo non una ma due uscite della marvel movie collection di solito ne faccio una per ogni video ma in questo video ne voglio fare due perché è passato un po di tempo e ne abbiamo recuperate due quindi qui abbiamo la numero 10 atman guardate quel fascicolo questo è il personaggio e poi abbiamo la numero 11 occhi di falco ragazzi a me questa collezione mi sta piacendo un casino guardate qua qua abbiamo la statuetta e questa è occhi di falco adesso ce li andiamo a vedere nel dettaglio ma prima vi voglio ricordare ragazzi iscrivetevi ragazzi iscrivetevi perché è grazie a voi se il canale andrà avanti perché io vi mostro le cose che io compro vi faccio vedere tutto a voi non costa davvero niente iscrivervi al canale è totalmente gratuito voi vi iscrivete e a me mi supportate così capisco che questi tipi di video vi piacciono lo ripeto sempre nei miei video ragazzi non vi costa nulla iscrivetevi perché più iscrizioni vedo e più contenuti porto e non dimenticate anche il like ragazzi ma adesso visto che mi sono dilungato fin troppo andiamoci a vedere queste due uscite della marvel movie collection andiamo allora eccoci tornati come sempre faccio vedere il fascicolo allora qui abbiamo atman guardate che bello se avete visto il film è un personaggio veramente spettacolare qua come sempre ci dicono il personaggio l'attore e da quale film è preso qua vi ricordo che non c'è più prima delle prossime uscite qua guardate qualche disegni bellissimi questo è il questo è l'attore qua abbiamo un po di curiosità sul mondo di atman guardate che bello lo sfoglio velocemente ragazzi perché sono ci perdiamo troppo tempo e questa è la copertina del film e qui dietro abbiamo il mitico personaggio ragazzi qua c'è il prezzo l'abbiamo pagato a 15 euro 99 come sempre adesso vi faccio vedere occhi di falco che è stato stato preso dal film del marvel avengers qua qualche bello occhi di falco l'attore e il film guardate che bello occhi di falco bellissima questo è l'attore qua abbiamo un po di curiosità qua abbiamo anche thor che avevamo già recensito anzi ragazzi vi voglio ricordare che se avete perso le altre nuove uscite le trovate tutte sul mio canale perché le abbiamo recensite tutte fino adesso quindi non perdete non perdete i video andate a recuperare sul mio canale perché sono sempre disponibili da vedere quindi se non li avete visti fate un salto sui miei video qua abbiamo le novità e qui abbiamo la locandina del film avengers qui il personaggio stupendo ragazzi stupendo allora alzo un attimo l'inquadratura così lo vedete meglio ok lo vedete meglio alzo un attimo l'inquadratura ok ok qui abbiamo il personaggio allora lo tiriamo fuori come prima cosa abbiamo qua il fogliettino artman la dicitura tutto quello che volete sapere su questa statua e qua lo mettiamo via qua apriamo e abbiamo il nostro artman ragazzi guardate qualche bello numero 10 artman marvel vellutato marvel marvel 2021 guardate qua dietro qua abbiamo i fili del casco ragazzi guardate che bella stupenda questa statuetta in resina metallica mi stanno piacendo davvero tante guardate che bella allora da lontano non rende ma da vicino ragazzi è spettacolare cosa volete dirgli a questa statuetta poi per chi ama la marvel ragazzi sono delle statuette da collezione stupende ok costano 15 euro e 99 però sono una delle collezioni più belle che sta uscendo ogni edicola ragazzi questa è altman adesso vi faccio vedere qua occhi di falco la numero 11 allora poi abbiamo h way marvel movie collection io non vedo l'ora di averne di avere le altre perché ve le voglio portare tutti sul canale prendiamo qua occhi di falco e guardate qua con il suo arco qua ci abbiamo il filo guardate che bello guardate che bello proprio sembra proprio lui l'attore vado a guardare vista di profilo ma che qua dietro le sue frecce i suoi stivali anche qua dietro il numero 11 h way marvel 2021 e guardate qua che bella ok guardate che belle spettacolari spettacolari che fanno queste due insieme allora atman si merita un bel 9 perché ragazzi guardate è stata meramente colorata bene e mi piace non do un 10 perché magari nelle proprio nelle rifiniture c'è qualche sbavatura però nulla di che ragazzi è nulla di che la figura è bella però quindi non do un 10 perché ci sono delle sbavature occhi di falco invece gli do un bel nove e mezzo anche qua ci sono meno sbavature di quell'altra però qualche sbavatura c'è sempre quindi diciamo che che non sono perfette al cento per cento qua sulla faccia ha un puntino nero che andremo a ritoccare con con un penarello e guardate che bella ragazzi sono stupende queste queste figure siamo arrivati alla numero 11 io spero che queste due figure vi sono piaciute e continuate a seguirmi ragazzi perché davvero ci tengo molto a mostrarvi tutto quello che colleziono e ci tengo molto che voi vi iscrivete al mio canale non vi costa nulla è un'iscrizione gratuita schiacciate il tasto iscriviti e attivate tutte le notifiche così tutto quello che esce lo vedrete sul mio canale perché oltre a queste collezioni si portano modellismo e ascio un figure e poi giochi per bambini quindi ragazzi se non volete perdere tutti i miei video iscrivetevi perché davvero escono davvero dei video spettacolari queste sono le due che abbiamo preso e sono davvero spettacolari allora ragazzi non voglio dilungarmi oltre perché questa collezione è solo per gli amanti della marvel quindi visto che ve li ho fatti vedere nel prossimo video ci saranno altre statuette e magari vi faccio un giro completo di tutte quelle che abbiamo fino adesso però se vedo un supporto da voi che lasciate tante iscrizioni e tanti like io continuerò a portare a questi tipi di video ragazzi quindi con questa recensione della marvel di atman e occhi di falco è tutto e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ragazzi ciao